Non piangete Giovanni Falcone, i vincitori non si piangono. L'uscel se la lotta e la morte per vivere una luce che non si spegne in un mondo dove prevalgono le tende. Non piangete Giovanni Falcone, non nascoso il suo volto nel fango quotidiano. Non lo fermarono né minacce né lusinghe, perché lui era già il vincitore. Non gli importava sapere l'ora della morte, era un passaggio obbligato, una consapevolezza tisannica. I leoni non vanno a morire con la criniera abbassata. E mentre lo sdegno degli uomini montava come un uragano allo scatto del sante assassino, chissà in quale parte inimmaginabile dell'universo siderale, Dante e Omero celebravano l'apoteosi di Giovanni Falcone. Spargete fiori sul passo del vincitore, coprite l'autostrada di Ghirlanda e di Lauro. Giovanni non appartiene al regno dei morti. Non piange la terra che si è nutrita con il suo sangue per partorire germogli di eternità. Il vortice del vento ne carpirà le spore alla ricerca di altri suoli fecuni. Non piangete Giovanni Falcone, voi sì, madri dei suoi assassini, voi sì, avete diritto alla disperazione, a strapparvi i capelli, a vestirvi di un nero eterno, a maledire il vostro latte avvelenato che le ha nutriti. Ma non puoi piangere, chi scelse è il prezzo di essere libero. Fermati, pellegrino del mondo, fermati accanto all'autostrada, fermati all'alba, non quando tramonta il sole, ti illuminerà di miriadi di germogli splendenti, tutti con il volto intatto e immacolato di Giovanni Falcone. Le attività didattiche, non è che non ci fossero, per carità, però una scuola più attiva è stata lei a promuovere. Quindi un applauso dobbiamo concedere e glielo concediamo di vero cuore. In queste occasioni le parole, io sono brevissima, vi devo dire solo grazie. Principalmente voglio dire grazie di nuovo ai bambini, voglio dirvi che siete stati veramente bravissimi. Bravi, bravi. Non vi dovete preoccupare degli errori, se qualcuno non è andato a tempo, se ha sbagliato, non importa. Le cose più belle forse qualche volta sono quelle che improvvisate, sono quelle che vengono meglio. Io devo dire che voi siete veramente dei bambini meravigliosi e voi genitori dico che siete molto fortunati, fortunati perché avete dalla natura un regalo meraviglioso, per cui è stato semplice, io non ho fatto niente, ho solo mosso una macchina, una macchina perfetta, che voi avevate già. Quindi devo dire grazie io a voi. Grazie. Grazie.